Questa è la casa dove io abitualmente abiterò. Questa è la porta d'ingresso. Qua è tutto tappezzato in pelle. Fai anche lo speggio, usi a mettere anche tu la sera. Sì. Questa è Pino. Io mi sposto perché faccio un po' schifo. E adesso andiamo avanti. La camera è la camera della mia padrone di casa che è chiusa a chiave perché ci sia tutta la sua roba. Questa è una tanti camera. Questa è il mio studio. e salone di ricevimento pieno di fiori come si può vedere fai un po' di fiori le due parti e salone di ricevimento io chiuso con le apre chi è che ha fatto questa volta? non lo so buon basta questo qui è tutto il telefono la è fatto su tutti gli angoli anche i fiori li ho fatti fai un po' di pausa quello qui è la camera da letto con il tornare c'è un po' di casino perchè c'è tutta la mia roba qui carabie però fai davanti un po' di tappeti in giro si adesso per tutti colorati che sono qui devo stare attento anche a non cadere eh? devo stare attento anche a non cadere andare indietro così eh si eh adesso questo qui fa riprendere un po' di tappeti che qui in Romania i tappeti è proprio un culto in tutte le case al minimo non c'è da mangiare ma il tappeto non deve mancare veramente è così eh da tutte le parti ci sono i tappeti qui è l'altra dicamorina del reparto notte qui c'è tutta la taca panica un casino unico tutta la roba presa su ecco ecco e se si andiamo a se i banchi ci siamo un po' di puzza che ci sono stato io prima a cagare Raffaele sta svelendo Raffaele te anche il cesto Raffaele sta svelendo perchè c'è un po' di puzza eh la vasca eh la vasca eh eh la vasca eh e così mi vuoi che vedo dove io abito cucina ecco Eh, c'è un po' di casino perché io naturalmente faccio qualcosa da mangiare e lascio tutto per l'aria e aspetto qualcuno che venga qui a pulire. Qui, da ragazzo, eh sì, si vede, io penso che ci vede, sì, sì, dovrebbe vedersi. Questa qui ha una camera buia senza lampadino. Sì, però non possiamo più vederlo dopo perché è...